E' benvenuti ragazzi, il nostro nuovo primo, anzi, il nostro primo gameplay con un nuovo ospite E' qui con me c'è Arcanthos, non so dove sei, dove cazzo sei? Troia? 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 Sali? Troia? Ciao ragazzi E' presentati un po', non fare la checca E' sono checca E' sono Arcanthos, e basta E ragazzi Ora aiuto un poco a Yamamoto con questo nuovo video di Minecraft E cazzeggiamo un po' su Minecraft Poi ci dite qualcosa, quello che dobbiamo fare Ah si, ovviamente Vabbè ora vi spiego un po', in pratica, visto nel primo video che ho fatto con un'altra persona, ovvero Alvis L'abbiamo registrato con un computer che faceva parecchio schifo quello là che avevo Ora invece ho cambiato il computer, quindi sono ben attrezzato adesso E possiamo fare gameplay decentemente, o no? Si, abbo si Allora, quindi questa è la... Ah, anche Comunque, dicevo... Vabbè, questa è la nostra prima serie E la nostra serie, questa qui, ovviamente sarà sulla modalità sopravvivenza Abbiamo anche i nostri obiettivi E ci ha rotto il cazzo Ammazza quel bastardo Ammazza quel bastardo Porco Dio Scusatene Oh, ti si so sparta Eh, basta muore Scusami, non volevo Io sono una persona per bene Eh, non muore Gesù bambino Baciami i piedi Baciami i piedi Ok, è morto, è morto Perfetto Comunque, già sto morendo di fame GGVP GGVP ragazzi a me Comunque Abbiamo i nostri obiettivi, ovviamente Il nostro obiettivo, quello iniziale adesso È quello di crearci una casa in un posto lontano Cioè, partiremo per un viaggio Cerchiamo la zona che vogliamo costruire la nostra casa E ci attrezzeremo, ovviamente, per la sopravvivenza Giusto, Lettieri? Lettieri Oh, scusami, ho sbagliato in persona Parlavo... Cioè, di solito gioco con un mio amico Sbagliato Perdonami Volevo... Comunque volevo dire Alcantos Bravo Bravo, bravo Sì, scusami Si fa così, ci diamo a modo Si fa così Si parte bene, ovviamente Ah, questa bellezza Comunque, io inizio a prendere la legna Ovviamente, ci serve per costruire le prime attrezzature Che cazzo? Attrezzature Attrezzature Dove sei, Troia? Oh, sì Godi, Troia Ma che mese cosa? Aiuto Ah, perfetto Si inizia bene Si inizia bene Sì, sì Comunque, già ho preso la legna Quindi Scusami, scusami Non parlare scurrile Maleducato Sto terrone Ovviamente anche io sono del sud Non pensate che io sia razzista Perché ci sono persone che pensano queste cose E non voglio che pensiate queste cose Io sono una persona per bene Io amo l'Italia Amo il mondo Amo tutto Amo tutto Amo tutto Amo tutto Vabbè, adesso lo abbiamo Vabbè Va bene Smettiamo Allora Io ho già fatto tavolo da lavoro Come cazzo si chiama? Banco da lavoro Banco da lavoro Oh Non sono caduto Oh, che rile a casa Ma lui ha Ma che si fa c'è? Non sta Niente, niente Allora, io sto facendo il piccone perché Io sono caduto Insomma C'è un pollo Allora, aspettiamo Mi faccio un attimo la spada di legna Perché se no Dobbiamo correre dietro davanti Dietro davanti Avanti e indietro Dobbiamo seguire Non mi chiude Ero un nuovo buco Ucciso una gallina Povetina Tu dici dietro davanti Sì, bastardo Senti Io sono una persona Che 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 guarda Che 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 guarda dietro e davanti Bravo È giusto È giusto così Le persone che guardano dietro e davanti Sono persone Naturali Sì È tutto giusto Cioè Il mondo va così Ma che si è combinato? Io niente Sto scavando Che devo fare Ma perché se fai bug a casa Così Fai bug Ma a me serve Cioè a me serve pietra Bravo Aiutami Cioè non Non parlare a cazzo Tratteniamo le persone Loro sono interessate Alle nostre cazzate Eh infatti Noi contiamo le pego Non diamo le pego Uno Due Tre Quattro Dove le vedi le pego? È la mamma Di Alice Non mi ammazzare Oh Sì Non mi capire che c'ho Paghi cuori Mi ammazza Allora Senti ragazzo Comunque Parla Tralasciando queste cose Questa sarà una nuova serie Ovviamente Tutta nostra E sarà da Sbendicarci Ovviamente 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 Dire questa parola Spesso sì Come nello Nello scorso video Era così teso Che parlavo Da maleducato Ah Mi sono fatto male Però non lo direvo Questa voce Perché alla gente piace Alla gente non piace Ma può anche non piacere Questa voce Così Sì hai ragione Scusateci ragazzi Ma la nostra La nostra Andiamoci da qua Sì sì Io ho mangiato Sto a posto Ah eh Capì Pensa a lui Solo a lui Io ho mangiato Sto a posto Ovvio Ti togli davanti Alle palle Non levare Non levare Non levare Non la sto levando La sto levando Guardate quanto è bello Che lavora Eh È bravo E qua pollo Uh carbone A posto di guardarmi Fa qualcosa Non lo so È ribello Ma non dobbiamo mandarcene da qui Eh però Voglio mangiare Ah ok Ti ammazzo una gallina Ah muori pollo Tengo tre Tre cosciotti Ah perfetto Allora che cazzo mi fai scoprire a fare Ah Come dicevo ragazzi Questo Questa nuova Questa nuova serie Sarà parecchio divertente Perché non ci mancheranno Faremo Cioè su questa serie Faremo Parecchie cose pazze Cioè vogliamo Vogliamo costruire delle cose Che non abbiamo mai fatto Cioè non hanno mai fatto Delle persone Delle persone Sì gli altri Cioè gli altri youtubers Ma cosa fa Ti sta a fare No Non voglio Seguimi Devo mangiare Aspetta Ora ci nascondiamo qui Guarda Ci nascondiamo Chi ci Ci nascondiamo Ci nascondiamo Da persone brutte Tutto qui Tieni il pollo Ah sì C'è un pollo Tieni È freddo Lo vuoi Aspetta Ma te lo metto Nel forno Te lo metto anche Nel forno Nel forno Nel forno Nel forno Nel forno Tesoro No aspetta Tengo il carbone Ah scusami Ma come Io lo metto Vabbè Te lo sei presa tu Eh sì Non ti muovere Non ti ho fatto niente Non ti ho fatto niente No ma non va a danno Ah ok Scusate la mia ignoranza Non sapevo che quell'uovo Non faceva danno Purtroppo non Questa la tagliamo Questa la tagliamo Che alla fine non tagliamo Oh cerca i funghi Aspetta Sto guardando il paesaggio Voglio far vedere le persone Il paesaggio No niente Ah Sinceramente io prendo Parecchia legna Aspetta Ma mi faccio una bella cosa Così Hai fatto una laggata Esagerata Oh Hai detto 50 parole In 2 secondi Eh ma io ho detto 50 parole in 2 secondi No no Poi ti faccio sentire È una cosa esagerata Ma Ah ovviamente Lo sentirò Sarà divertente Comunque Io sto prendendo la legna Perché ci servirà sicuramente Ah Cerco un po' di mangiare Sì tu cerca il cibo Fai le tue cose Da casalinga Sì da casalinga Eh ma è l'uomo Va a tagliare la legna No il falegname Questa è vero Questa legna è fresca Di stagione Lo senti l'odore di legna Mi fida di te Ah fidati Fidati di me Allora Ci servirà anche questa legna Perché Voglio fare le cose particolari Cosa devo fare Ma la casa Aspetta Allora Allora al cantos Io sto prendendo La cazzuta di legna Perché lo sai Io voglio la casa particolare Non muoio Vediamo Non muoio Bruciato vivo GGWP ragazzi Un premio a questo ragazzo Vieni a coordinate 307 Io devo venire Perché non sei venito Eh no perché Tengo un sacco di cose 307 Wah riusci facciamo Sbarca Ah 307 poi Io vorrei evitare Di usare Lo tengo uscito Lo tengo uscito All'interno qua Va bene va bene Va bene Stai senza pensieri Sto senza pensieri Sto senza pensieri Sto senza pensieri Viva Allora ci avremo Se me posso fidare Ma che sciro Il bicchierino Che cazzo Poi ce l'hanno sempre faccio Ma sicuramente Amo l'odore di campagna E' fondadino Ciao ragazzo Comunque qua io già Sto iniziando Già ad avere fame Di nuovo Porco giuda Perché mi sto muovendo Troppo spesso Io cosa Tu iniziando E sto prendendo la legna Poi sono andato a vedere Le tue cose Insomma Quindi ho camminato Ho sudato Poverino Poverino Modena Freve Ma si poco scurrile ragazzo Io Io so scurrile Si tu sai scurrile Ma che è Che cazzo Non entra Ah Ah bene ragazzi Ovviamente nel prossimo episodio Vi dimostreremo tutti i nostri obiettivi Che abbiamo intenzione di fare E vogliamo farli tutti Non finiremo questa serie Se non finiamo tutti questi obiettivi Ovviamente Dai ci piaccio E coordinare Ah Lui non sa prendere più le coordinate GGPP Io inizio a rompere tutto Perché me ne voglio andare Da qui mi fa paura Sto posto 207 Wow Che stupmina Ah Questa sarà una serie particolare Perché Questi obiettivi Saranno veramente Che cazzo è Uno zombie con la zucca in testa Spada Oh no 609 100 Oh ci sono zombie Bene C'ho carne di zombie No E' da mangiare Che un po' Tieni più fame No no Sto mangiando Solo preso Dicevo solo che Ah Parliamo anche della durata dei video Ovviamente anche di questi Perché ognuno Cioè noi decideremo Quanto farli durare Abbiamo intenzione di farli durare 20 minuti ciascuno Ovvio Te va bene no Arcanthos Sì sì Ma pure Può dipendere pure Ah beh Sì ovviamente Dipende anche dai casi Questa qui Forse durerà un po' Di più Cioè Ovviamente Ci sono più cose da fare La casa Dove metterle Il mangiare Questo è ovvio Cioè Spero solo che Vi faremo divertire Con le nostre cazzate Perché vi giuro Ce ne saranno un sacco Non ve ne perderete Ma Vale Yamamoto Cosa hai detto prima Non ho capito Valerio Chi è Valerio Eh no Un mio amico Eh sì Comunque sì Io Mi chiamo Valerio Perché Parecchi Account Cioè Su diversi giochi Come League of Legends Io Mi chiamo Valerio Gallo Quindi Saprete bene il mio nome Quindi non vi preoccupate Eh sì Non prendete in giro Il mio Username Valerio Gallo È figo Perché io sono un gallo Comunque Vale Vabbè sì Ovviamente Puoi chiamarmi Valerio Yamamoto È uguale per me Cioè Non mi offendo Allora Offenditi Vale Comunque Dove l'hai messa Il carbone C'ho tutto Lì addosso Ah Possiamo Andiamo Aspetta Io devo per forza mangiare Perché c'ho Io tengo due coscio Però tengo un sacco di cibo Ah Però non ti preoccupare Comunque iniziamo a camminare Perché questo 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 posto Non mi Così Facciamo un buco per terra Perché Eh Perché Ci mettiamo là Scaviamo Almeno Sì ma non abbiamo cibo Questo dico Ce l'ho il cibo Ti ho detto Ah ma tanto o poco Tengo 16 di manzo Due di cotolette Ah ok Perfetto Perfetto Va bene Allora Aspetta Io Allora Costruisco un attimo La paletta Aspetta La paletta Eh Così scaviamo più veloce Prendi più veloce Prendi tu tutta questa roba E scavo Nel frattempo Ma poco Non devi scavare Ti sa Adesso E poi ti fa Oh Ci sono due per Per entrarne Sì sì Non sto facendo Vai ah Iniziamo a dentro Ah qui Ah Smetti No Aspetta Ah qui devo scavare Giustamente Decent Lo chiamano Valerio L'architetto Ma senti Io Sono una persona Molto Brava In queste costruzioni Io amo Costruire Sotto i buchi Sotto i buchi Come dopo Ragazzi Se per caso Vedete Troppo oscuro Io posso modificare La luminosità del gioco Smettila di picchiarmi No Tu smetti davanti Ah io non è che mi metta davanti Aspetta Qui facciamoci la zona Principale Che mettiamo tutte le cose O no Va bene no Ah buono Così Va bene così Cioè Troppo grande No vabbè Sto solo togliendo Pietra che può dare fastidio Sì Lì c'è la ghiaia Perfetto C'è la ghiaia C'è Gaia Salutiamo Gaia Ciao Gaia Ciao Gaia Non so chi tu sia Però ti saluto Perché mi sei simpatico Metti il carbone Ho messo I miei bicchiari Io sono bravo Allora Allora Mi servono i stecchetti Perché Devo fare Le torce Ovviamente Ah Sapore di mare Sapore di sale Sapore di amore Che cazzo Sto sto dicendo Tu sai di me Io so di te No bisogna capire So di te in che senso Ma con Perché ti fissi Il bongo Il bongo Che Perché fissi il banco da lavoro E perché sexy So sexy 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 E che stavo Vedendo un attimo Una cosa Urgente E mi sono dovuto Fermare Un istante Si scaveremo Tanto tesoro Si lavoriamo La pietra Poi troveremo Anche il ferro Uh carbone Mio 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 Un ferro L'ho strontato Già Il ferro Ah perfetto Eh ragazzi Lui è un grande Minatore Quale Amo fatta Assunzato Io non ho fatto Nessun altro Assunzato Ah boh tu Già l'hai fatta Assunzato Ovvero Quella di nascere Può essere Eh Ma che Legge pure Nella mente Eh Sono perspicace Valero Il sensitivo Valero Il sensitivo Il gal Valero Il sensitivo Ah si Galo Sono Che lo Volo Ah C'è tante cose inutili Infatti te le buttate No non buttare Niente Non buttare Eh perché lo devo buttare Niente Perché può sempre servire Ah ma tu mi sei tanto Quella o meno Ciccola No io Io Non fare mai una cosa Del genere No L'ho vista Guarda Si le attiri No niente Non sto facendo niente Ah si le attiri Ah si sto arrivando Guarda Vabbè Non ti piace Che schifo Ah Ah Arcanthos Vai di là Vai di là Vabbè 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 Non ti stupro Ti sei chiuso anche Questo è bello E questo è bello Eh però Non vedi una città Sì ma non Vabbè sì Ovviamente non è che Chissà cosa dobbiamo trovare Non credo che vogliamo diamanti Però un po' di ferro Sì ovviamente Sì ovviamente Vabbè ma vedi se è passata la notte Perché sinceramente Credo che Ancora notte Ancora notte Mo facciamo la casa Altri tre minuti Sì altri Altri tre minuti Dove di sopportare Ah vabbè No vabbè sta uscendo il sole Quindi tra poco usciremo Andiamo a trovare posta Inizioniamo a costruire la casa La casa tutta per voi Ragazzi Tutta per voi Oh 7 film Non sto facendo niente Eh Stai facendo qualcosa Perché sennò non ti dicevo Sei film Stai facendo? Niente Hai cagato carne Cagò per me Allora 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 Usciamo Ah prendi le cose Prendi le cose Rompi le cose Eh ho fatto Andiamo Allora No siamo dei grandi viaggiatori ragazzi Ci piace viaggiare Allora ci mettiamo Vicino alla ciaggia Eh sì però questo posto Non mi piace Tesoro Compriamo Un altro lotto Ok di sims Probabilmente Allora ragazzi Vi dirò che Arcanthos ci accompagnerà In parecchi Gameplay Multiplayer Perché Ovviamente Non ho niente da fare A casa Sì sì Lui non fa niente Non studia Non fa niente Fa la ricotta Eh sì È buona la tua ricotta Di Berna Di Berna Non lo so No Oh prendi i fiori Prendi i fiori Prendi i fiori Ah sì prendo i fiori Se ti metti davanti Il cazzo ti picchio Cioè non l'ho fatto apposto Però ti sei messo davanti E ti ho dato lasciata in testa Ora dobbiamo metterti Tre punti Speriamo che la ferita Non si contamini Perché se si contamini Dopo ti ammali Devo prendermi cura di te Devo fare qualunque cosa Devo spendere miliardi Per curarti E se poi muori Cosa? Polly 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 Cidi polly Non uccidere i miei esseri No tu sei un gallo Ah è vero Ammazziamoli Sono polly Ammazziamoli tutti Il materiale nuovo Il materiale nuovo Dove? Qua Ah giustamente Questa è la nostra prima volta Che giochiamo Con Minecraft Uno La diorite La diorite Questa si chiama Ah la prenderò solo Perché è figa Non so a che serve Cosa si può fare Con la diorite? Eh Novi cose Cioè non mi ricordo Vabbè Poi ovviamente Guarderemo Allora questa qua bianca È la diorite Poi ci sta L'andesite Che è questa qua E poi ci sta Questa qua che sembra terra Che si chiama granite Ah eh Sono nuovi materiali Forse che riguarda Più che altro la pietra No Ci fanno nuovi materiali Che per esempio Puoi fare più bellino La strada Oppure il cornicione Di qualche casa Ah si È bellino È interessante come cosa Sì Anche se non interessa Qualcuno Devo fare lì del tuo Almeno conmai Qualcosa che so Vabbè io ammazzo Anche delle pecore Perché ci possa evitare Ah ma le pecore E ora danno anche La carne Non lo sapevo Eh Ci stanno pure i conigli Ah che figo Non lo sapevo Cioè È una bella Oh guarda quello Guarda quello Guarda quello Come si è abbardato Dove? Ma ci sono anche Novi mostri ovviamente No non credo Oh amore di bastardo Ti si sparta Eh ma si accede Non è vero Non ti ho colpito proprio Allora è quello Che ti sta colpendo Da mezzo Vabbè sei tu Non è vero Menti Ah Comunque Stiamo Stiamo registrando Da 21 minuti Credo Che faremo Questo qui 25 minuti O di più O di più Voi stoppare adesso O prima troviamo Dove fare casa E Troviamo prima del posto E poi stoppiamo Ah bene Ah va bene per me Io ho preso Quattro pezzi di lana Ci mancano due Per fare anche let Comunque Questa modalità mi piace Cioè Dico questo nuovo minecraft Hanno messo parecchie cose nuove Mi dispiace solo che Non possiamo usare le shader Cioè Mi avrebbe fatto più piacere Cioè mi avrebbe fatto più piacere Usarle Piacere 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 Ah dove stai? Ah comunque dicevo che Faremo parecchi gameplay Insieme a multiplayer Perché Ovviamente carico Questo video sul mio canale E Arcanthos Ha il suo video Sul suo canale Quindi Forse Non so Non sa ancora se Creare un suo canale E iniziare Anche lui seriamente Però Se è così Comunque Se lo fa o no Arcanthos ci accompagnerà In diversi videogiochi Come minecraft multiplayer E al di gioco Si Anche qualcosa Non so A game games Sempre su minecraft Dove giocheremo io Alvis e Arcanthos Staremo tutte e tre insieme Facciamo tre figure in me Ah si ovvio E poi chiameremo la serie Cosa non fare Per vincere Cosa non fare Ah quindi questa serie Gli ha dato anche un nome Cosa non fare per vincere Ovviamente Ah ragazzi allora Dove cazzo sei Seguimi troia Tu stai seguendo me No non è vero Ah si ti vedo Hai le ossa Sì uno Due Questo lupo sarà mio Dove cazzo sta Boh Ah lo tengo sta uno qua sopra Dove Uno è mio Uno è tu Vai Ah subito me l'ha dato Perfetto Anche a te Sì sicuro a me Ok perfetto Andiamo Aspetta Si è seduto E a me è staggato A me no A me ne sei seduto A me è educato È educato Povero cagnolino Allora Fatto un gruppo di lag Di fps è bellissimo Ah Comunque No pure a me FPS stanno scendendo Ah beh ovviamente Minecraft Quando carica il mondo Succede a tutti Probabilmente Ah ragazzi Noi stiamo cercando casa C'è un lotto Dove fare questa nostra casa Sì non stiamo giocando a The Sims Lo voglio chiamare l'otto Va bene Ma da qua Come si è parato Ma è figo questa cosa Secondo te Se ci facciamo casa là sopra Ma perché Se ci facciamo sopra la montagna E cosa ho detto io No Ok tu cosa hai detto Io intendevo là sopra Ah io stavo qua Ah no Ma come si è Ah tu stai facendo Proprio contro la natura Sì Sono Contro Newton Sono contro il sistema No Contro Newton Contro La legge è di Newton New 2 O di Pokémon Newton va bene Tu ridilo Devi ridere Devi essere dalla mia parte Aspè però Ah no Dopo poi Faremo la casa Adesso vediamo solo il posto Sì Ci fermiamo dove Appunto troviamo Il posto per fare Il posto Per fare la casetta Della vecchia fattoria Appena arrivo sulla montagna Devo fare una cosa Che nessuno farà La cacca Già l'ho fatta Vedi che ti sta andando in testa via Ma se sto dall'altra parte Wow Non finisce più sta cosa Eh però io sono arrivato Come cazzo sei arrivato là? Tutto furio Siamo arrivati Ah siamo arrivati Nello stesso momento Bellissimo Io ho seguito L'acqua Siamo arrivati Ah invece sì Sarebbe carino Sono arrivato Non c'è Eh basta Allora la facciamo qua Sì Ci fermiamo qui Eh ragazzi Ci salutiamo Fermiamo il nostro video qui Abbiamo già trovato Il posto dove fare la casetta Mi piace solo perché Si vede tutto È paronama Però mi dispiace il fatto Che No Che abbiamo distanza 16 di Kanch O come cazzo si chiama Non lo so E non si vede bene il paesaggio Però sì mi piace Forse faremo casa qui Oppure Boh Cercheremo laggiù Comunque Dove sta la neve Non ho mai fatto casa vicino alla neve Quindi sarà La nostra prima esperienza Che la casa qui Comunque ragazzi Ci salutiamo questo Video finisce qui Ci vediamo nel prossimo episodio Che uscirà A brevemente Ciao a tutti ragazzi Da Yamamoto Oppure Valerio Gallo Alcantos Ciao a tutti Ciao a tutti